Ancora cronaca, Maxi confisca beni da 40 milioni di euro a Giovanni Pilo, imprenditore di Le 83 anni, ritenuto vicino a Cosa Nostra e tra i protagonisti del Sacco di Palermo. Agnese Licata. La sua fortuna, Giovanni Pilo, l'ha costruita tutta qui, a Palermo. Oggi ha 83 anni, vive in provincia di Roma, ma la sua ricchezza, confiscata dalla Direzione Investigativa Antimafia, proviene dalla Sicilia e dal suo copoluogo. Durante il Sacco di Palermo e soprattutto negli anni 70-80, Giovanni Pilo diventa uno dei tanti palazzinari legati a Cosa Nostra e Corleonesi, che coprirono di cemento Palermo e la sua conca d'oro. Dietro il suo ingento patrimonio, stimato in 40 milioni di euro, con ben 145 immobili, ville tra Sicilia e Lazio, ma anche 8 aziende con sede a Roma, dietro tutto questo, per costruire tutto questo, sarebbero stati utilizzati i capitali della mafia. Il suo legame con la famiglia di Resuttana, tra l'altro, fu confermato nel maxiprocesso di Palermo, quello messo in piedi nel 1986 dal pool antimafia con Falcone Borsellino, fu condannato a sette anni di carcere. Di lui parlarono anche storici collaboratori di giustizia, come Tomaso Buscetta e Salvatore Anselmo. In carcere tornò nel 2012 per il reato di intestazione fittizia di beni ad alcuni parenti, gli stessi beni sequestrati l'anno scorso e ora sottoposti a confisca.